Ciao, mi chiamo Ibrahim e vengo dalla Sera Leone. Sono al primo anno del Collegio del Monde di Unito di Lugno, grazie alla borsa di studi avuta partecipando al bambino a Pavelloni. Lì siamo 186 studenti da 80 paesi. A causa dell'epidemia del coronavirus adesso sono a Roma, seguo le lezioni a distanza, studio e preparo una tessina, in attesa di tornare al Collegio l'anno prossimo. Ciao, sono Abdullah Bianca del Cambia, ho partecipato alla selezione come Ibrahim, grazie all'aiuto dei donatori, amici del Collegio. Anche io sono andato a Arduino, ho trovato tanti nuovi amici e mi sono appassionato alla matematica e alla fisica. Adesso sono a Catania, la sfida di un mio compagno di Collegio. Ciao, mi chiamo David Joseph, sono ligeriano. Ho superato le selezioni come Ibrahim e Abdullah. e grazie ai donatori amici del Collegio ho potuto venire a Arduino con loro. L'esperienza Arduino è stata bellissima ed è sempre una bellissima esperienza, ma purtroppo l'esperienza è stata intorotta da questa pandemia. Anche se c'è la pandemia facciamo delle lezioni online e che abbiamo dell'attività che facciamo con i nostri compagni. E spero che torneremo più presto al Collegio, perché quando torneremo sarà più bella. Grazie, ma è vero. Grazie. Grazie per il vostro aiuto. Grazie a tutti.